Eccoci. La Lazio 2-0 tutto in 17 minuti con le perle di Dybala e di Guain. Si parla anche della superformazione offensiva della Juventus ma anche l'ironia dell'importanza di Mandzukic nello scacchiere tattico di Allegri con appunto 10 Mandzukic in campo. In realtà è tutta la Juventus che gira ad ampi ritmi nell'anticipo della ventunesima giornata. Infatti i campioni d'Italia dominano contro la squadra di Inzaghi e tornano naturalmente per una buona parte della giornata più 4 su Roma e Napoli. Poi la Roma si riporta a soltanto meno uno ricordando la Juventus che deve ancora giocare contro il Crotone. La Juventus che però è tornata dopo la sconfitta con la Fiorentina senza gli squalificati Alexandre Sturano e con Benatia in Coppa d'Africa dove si è anche infortunato l'Eminà. Allegri manda in campo una Juventus a trazione anteriore raccontando anche come è nata questa scelta dopo un risveglio matutino che gli ha fatto decidere di cambiare modulo con che dire Pianici in mediana quadrato nella batteria dei trequartisti mentre Inzaghi risponde senza paura senza abbandonare il 4-3-3 con appunto come aveva già fatto anche contro tutte le altre big difesa naturalmente con De Vrij e Wallace c'è Lombardi che viene confermato nel tridente a posto di Keita impegnato con il suo Senegal in Gabon e poi Patrick che sostituisce il terzino destro basta squalificato come Ludic. Però c'è una Juventus furibonda furiosa al quarto minuto subito Mandzukic sovrasta Patrick e poi sinistro di Dybala che dal limite non lascia scampo a Marchetti sblocca subito la partita piede sull'acceleratore al 17esimo naturalmente un altro schiaffo che tramortisce Biancocelessi sovrapposizione di Licksteiner spazio aperto per Quadrado che trova Iguain lasciato da solo in mezzo all'aria da Wallace e sul cross del colombiano il Pipita non si fa certo pregare nello scaraventare in porta la palla del 2-0 la Lazio prova a tornare in partita, disputerà anche un secondo tempo abbastanza interessante però sarà comunque una ripresa tutta in controllo da parte della Juventus anche se la scorsa di Simone Zaghi c'è stata I biancocelesti si scoprono e Dybala spreca anche clamorosamente due ripartenze potenzialmente letali la seconda volta al 15esimo dopo un assist illuminante di Iguain naturalmente la Juventus poi favorita anche dal fattore campo porterà a casa una vittoria importante e Allegri si gode anche l'esordio del modulo a quattro punte è il settimo cambio di schieramento dall'inizio di anno di Allegri che prova a mescolare le carte in questo suo ennesimo anno da leader in testa della classifica è un 4-2-3-1 con il Pipita unica punta naturalmente Iguain l'asse che dira pianice davanti alla difesa mercoledì mattina mi sono alzato e ho detto ora cambio ho preso la decisione perché me la sentivo ho percepito sensazioni positive negli ultimi giorni nelle poche prove effettuate credo che ci siano delle partite che spaccano la stagione e ho considerato che questa con Lazio lo fosse ero sereno più che a Firenze questa partita, quella partita non l'abbiamo nemmeno analizzata perché era troppo brutta per essere vera devo ringraziare i ragazzi perché hanno dimostrato che giocando la squadra difficilmente subiscono nonostante anche questo settimo cambio di modulo Max Allegri ha ridisegnato una Juventus sperimentale e un'ulteriore risorsa questa al centro del percorso della Juventus è un percorso che non inizia e non finisce qui ma non dobbiamo buttare le 15 vittorie precedenti ottenute con altri sistemi di gioco e con giocatori dalle caratteristiche diverse sarà sicuramente un modulo importante da poter essere riproposto dall'altra parte Simone Enzaghi analizza la sua gara dice Lazio poco cattiva in sintesi questo è il senso del suo modo di vedere la gara non possiamo regalare subito due gol alla Juventus nel suo rammarico non puoi venire a Torino ed essere sotto dopo 15 minuti già per 2-0 sapevamo che sarebbe stata una partita difficile che avremmo trovato una Juve ferita mollando di testa avremmo subito un passivo peggiore la Lazio non ha avuto l'approccio giusto però poi nel secondo tempo sì creando qualcosina quando però la gara era già chiusa quello che è mancato secondo Simone Enzaghi è la cattiveria, la concentrazione nei due gol concedendo spazio a Di Bale e Quadrado giocatori straordinari se lasci spazio a loro finisce male prendiamoci il secondo tempo per capire dove possiamo arrivare certo però dovremmo essere anche più bravi nel primo tempo le polemiche naturalmente sono state di altro tipo prima di vederle uno sguardo veloce alle pagelle di questa gara con un voto supersonico per Mandzukic un voto altissimo 8 esterno sinistro d'attacco grande fase difensiva per lui 8 anche per Iguoin che punisce come sempre 7 per Di Bala con la sua volè in apertura di gara e poi anche voti importanti anche per la retroguardia juventina dall'altra parte ovviamente voti meno alti per la Juventus per la Lazio contro una Juventus che naturalmente ha dominato la partita e poi spazio anche per l'altra partitissima di questo turno quella che il Napoli ha vinto contro il Milan un Milan che se non sta attraversando un periodo di crisi poco ci manca Montella ha dimezzato la media punti come scrive la Gazzetta solo 5 nelle ultime 5 giornate nell'ultimo blocco di stagione i rossoneri hanno dimezzato il rendimento i numeri nel calcio non dicono tutto ma aiutano a fotografare bene quello che può essere un momento vissuto da una squadra quello del Milan in termini numerici e peggiore della stagione 5 punti in 5 gare contro la Roma, Atalanta, Cagliari, Torino e Napoli sostanzialmente una sola vittoria e appena 4 gol segnati se dividiamo il campionato della squadra di Montella in 4 blocchi di 5 gare si nota come il calo dei rossoneri sia stato davvero evidente è una frenata importante nel tratto di stagione precedente erano stati 13 i punti contro Pescara, Palermo, Inter, Empoli e Crotone naturalmente a parte Inter gare non di alto coefficiente di difficoltà e nemmeno una sconfitta con 11 reti segnate un'analisi che però va anche presa come riferimento al ritorno in campo dopo la sosta e anche alla data anagrafica molto bassa del Milan di quest'anno dall'altra parte di Milano c'è un Inter invece che viaggia a ritmi altissimi parla Pioli che parla anche di Juventus perché si avvicina al big match Juve è battibile non prendiamoci in giro su Messi stiamo vivendo, dice Pioli con sano realismo una situazione positiva ma da qui a parlare di Champions ce ne passa poi replica alle voci su Simeone La Pulce ed esalta Icardi, Gagliardini e Candreva la Juventus dice il tecnico dei nero-azzurri è una squadra fortissima ma non è imbattibile le sei vittorie consecutive dell'Inter caricano quindi Stefano Pioli che non si pone limiti né per sé né per la propria squadra se dall'esterno sembrava che da piano ci fosse confusione io ho trovato invece un'organizzazione mai vista prima dice a Radio Anch'io Sport quando poi si entra nel vivo dice stiamo vivendo un momento positivo ma occhio a parlare di Champions perché ce ne passa dobbiamo dare in massimo ogni partita alcuni temi sono quelli che lo hanno visto già con le valigie pronte per un possibile arrivo di Simeone con tutta onestà i riferimenti al ciolo Simeone non mi hanno ferito per niente sto allenando una big e tanti vorrebbero essere al mio posto ora ci sono io e devo rimanere sereno e determinato per fare il meglio possibile dice Pioli che poi analizza anche il sogno Messi dice non bisogna prendere in giro la gente bisogna soltanto lavorare con la massima della serietà il futuro di questa squadra è il Rosario come lo è con la società grazie al gruppo Suning che vuole fare un'Inter grandissima un'Inter grandissima che pensa anche ai giovani come Gagliardini dice un giovane di grande prospettiva come lo è ad esempio Maurito Riccardi giovane forte e già capitano e lo diventerà ancora di più ultimo passaggio su Candreva dice i rapporti sono ottimi abbiamo lo stesso obiettivo fare vincere l'Inter e noi con questa notizia abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione quindi non mi resta che rimandarvi alle prossime edizioni della nostra rassegna sportiva grazie e arrivederci